Ciao a tutti! Allora, nuovo video di approfondimento sempre riguardante il Gesù dei Vangeli. Nel scorso video abbiamo visto quelle che erano le analogie con i miti greci, quindi effettivamente quale divinità potesse incarnare Gesù all'interno del mondo ellenista, mentre in questo vedremo quali e quanti Gesù abbiamo nei Vangeli canonici. E da qui sorge subito spontaneo una domanda, e cioè, ma com'è possibile parlare di tanti Gesù se il testo evangelico ci parla esplicitamente, in maniera molto chiara, di un solo Gesù, cioè di un solo personaggio chiamato Gesù? Ebbene, in realtà, come vedremo appunto in questo video, i Gesù sono tanti, cioè il Gesù che incarna tante figure è veramente moltecce, non soltanto uno. Addirittura abbiamo una branca, così dire, di studiosi, non solo alternativi, ma anche accademici, che affermano il Gesù che è presente nei Vangeli richiama fortissimamente a due figure, quindi a una duplice figura che magari, questa duplice figura era quella effettivamente storica, cioè quindi il Gesù di carta, il Gesù dei Vangeli, il Gesù redazionale, sembra essere ispirato non a una sola figura storica, ma addirittura a due figure storiche, che poi sono confluite appunto in un'unica figura letteraria. In realtà, e lo vedremo, ripeto ancora una volta proprio in questo video, con le fonti a nostra disposizione, in realtà si può parlare di tantissimi Gesù, quindi un Gesù rivoluzionario, un Gesù messianista zelota, un Gesù invece messianista profetico, un Gesù rabbi, quindi semplice maestro di legge, un Gesù invece guru spirituale, un Gesù più guaritore, magari più vicino alla branca e sena, un Gesù anche battezzatore, presente nelle sezioni esclusive del Vangelo di Giovanni, quindi un Gesù predicatore, un Gesù invece eroellenico e allo stesso tempo semidio, un Gesù filosofo, per alcuni filosofo cinico, per altri invece filosofo socratico. Quindi abbiamo tantissime figure di Gesù e in questo video di oggi ne vedremo soltanto alcune, vedremo appunto quelli che io considero i macro Gesù e attorno a questi macro Gesù ovviamente poi graviteranno tanti piccoli satelliti, tanti piccole figure di Gesù che poi andremo a vedere, scusate, nelle puntate successive. Quindi in quelle puntate poi di in principio che cominceranno con il prossimo video in cui analizzeremo in maniera molto più approfondita, anche a livello filologico di traduzioni, i Vangeli e poi ovviamente il Nuovo Testamento nel suo complesso. Però ovviamente poi ve ne parlerò un'altra volta. Cominciando con il primo Vangelo, quindi con il Vangelo di Marco, quindi andremo a vedere tutti e quattro i Vangeli in questo video, è proprio con il Vangelo di Marco che ho intenzione di soffermarmi molto di più, per un semplice motivo, perché il Gesù del Vangelo di Marco è quel Gesù, potremmo dire, molto nebuloso, quindi forse è difficile effettivamente da capire. I critici del Nuovo Testamento, c'è soprattutto quei critici che affermano nel Nuovo Testamento, ma soprattutto nei Vangeli e soprattutto nelle sezioni dei Vangeli in cui è esplicitata la figura pubblica di Gesù, proprio quel Gesù è già espresso come Gesù divino, non quindi come Gesù uomo, quindi addirittura nel primo Vangelo e il primo autore evangelico non nasconde affatto di credere nella divinità di Gesù anche quando Gesù era in vita, quindi quando Gesù esercitava pubblicamente la sua figura quindi di rabbi messianista, bene, vedremo adesso e analizzeremo appunto quei passi utilizzati dai critici del Evangelico del Nuovo Testamento appunto che rivendicano questa divinità di Gesù anche quando Gesù era in vita e vedremo esattamente se le cose stanno in questo modo. Quindi se effettivamente Marco, che è tradizionalmente riconosciuto come il primo autore evangelico, nonostante adesso vi siano un'altra branca di studi che dà priorità invece al Vangelo di Marcione, però poi quella è un'altra questione che magari riprenderemo in un altro video, ecco, attenendoci a quello che è ancora, potremmo dire, la posizione maggioritaria, tra virgolette, all'interno del nostro campo di studi, ebbene il Vangelo di Marco che è il primo Vangelo, ecco, vediamo se Marco effettivamente rivendica prepotentemente questa divinità di Gesù. Ebbene i critici del Nuovo Testamento, in questo caso i critici del Vangelo di Marco, dicono ma già nell'incipit del Vangelo di Marco, quindi Marco 1.1 che recita inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, quel figlio di Dio è una chiara esplicitazione proprio della figura divina di Gesù, quindi già Marco, all'inizio del suo Vangelo, sta esplicitando la natura divina di Gesù, e non vi è assolutamente alcun dubbio. Il punto è che, se uno vede poi le edizioni critiche del Nuovo Testamento, ovviamente io prendo in esame in questo caso la Nestle Island, la ventottesima edizione, quindi il Nuovo Testamento in Greci, oppure il Nuovo Testamento interlineare, l'edizione San Paolo, che si rifà proprio alla Nestle Island, bene, proprio per quanto riguarda Marco 1.1, in cui proprio sembra esserci questa esplicitazione di Gesù Cristo, figlio di Dio, nelle note relative, nelle note critiche, vi è scritto che questa confessione divina non è presente in molti dei codici, anche in molti codici antichi, e quindi sembra suggerire invece essere un'aggiunta posteriori da parte magari dei copisti. Quindi già nell'incipit di Marco, in Marco 1.1, non abbiamo questa confessione divina, Gesù Cristo, figlio di Dio, ma semplicemente inizio del Vangelo di Gesù Cristo. Quindi una confessione, in questo caso sì cristologica, e vedremo poi Marco in che senso intenderà questa cristologia, se paolina, divina, sottoriologica, o magari molto più legata a un ambiente ebraico, magari ha una memoria ebraica, ma certamente non una confessione divina. Un altro passo che solitamente è preso in esame dai critici è Marco 1.24, in cui Gesù sta dialogando con, sta avendo uno scambio, ecco, con un demonio, e questo demonio dice che c'è fra noi e te Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. I critici affermano, ecco, questo Santo di Dio è sinonimo di Figlio di Dio, quindi vi è questa somiglianza, questa somiglianza semantica fra Santo di Dio e Figlio di Dio. Ma se noi andiamo a vedere l'originale greco, in questo caso, in che modo è tradotto Santo? Ecco, Santo in greco si pronuncia Agios. E se noi per esempio prendiamo in questo caso, prendiamo soltanto questo dizionario come esempio, cioè il vocabolario del Nuovo Testamento greco-italiano dell'edizione San Paolo curato da Giuliano Igini, il termine Agios all'interno di questo dizionario, ovviamente poi nei prossimi video utilizzerò altri testi, però per adesso prendiamo in riferimento soltanto questo, il termine Agios significa Santo, ma significa anche Puro. E se noi andiamo poi a vedere le concordanze forti, per esempio sul sito BibleHub.com, uno dei più importanti siti di riferimento per quanto riguarda proprio il vocabolario del Nuovo Testamento, vediamo che il termine Agios, Agos, significa appunto letteralmente fisicamente puro, moralmente irreprensibile o religioso, cerimonialmente consacrato. Quindi il primo significato che si dà alla parola Agios è fisicamente puro, quindi una purezza fisica, non morale ma appunto fisica. E sembra quindi ricordare molto, e questa analisi l'ho in qualche modo sottolineata anche nel mio libro, Il Cristo illegittimo, sembra ricordare molto quello che scriveva uno dei più importanti semitisti, non solo italiani, ecco, Giovanni Garbini, nel suo libro Israele Società Antica, in cui scriveva che il termine Mashiach, quindi da cui arriverebbe appunto il termine Messia, aveva il significato sì di unto, ma originariamente forse aveva il significato di completamente unto, quindi un corpo completamente unto d'olio, in questo caso proprio per motivi di purezza fisica. E qui abbiamo un'accezione col termine Agios proprio di purità, di purezza fisica, quindi corporale. E quindi questo Santo di Dio, in questo caso, sembra essere legato non a una figliolanza divina, quindi non a un figlio di Dio, e dopo lo vedremo anche in altri passi di Marco, ma a una purezza fisica legata, in questo caso citando Garbini, legata proprio al termine Mashiach, al termine Messia. Quindi il Santo di Dio sembra essere legato qui a una concezione messianico, regale, e non a una concezione di figliolanza divina. Poi abbiamo un altro passo, c'è Marco 3, versetti 11-12, dove vi è scritto, gli spiriti immondi poi, quando lo vedevano, cioè quindi vedevano Gesù, gli cadevano ai piedi e gridavano dicendo, tu sei il figlio di Dio, ma egli insistentemente li riproverava affinché non lo facessero conoscere. Quindi qua abbiamo effettivamente, sembra esserci effettivamente un'esplicitazione del figlio di Dio, quindi Gesù riconosciuto effettivamente come figlio di Dio. Ma se noi torniamo all'interlineare delle lezioni di San Paolo, in questo caso, al passo proprio di Marco 3, versetti 11-12, l'interlineare ci suggerisce un altro passo, c'è un passo parallelo a cui può essere associato appunto Marco 3, 11-12, in questo caso Marco capitolo 1, versetto 34. E se andiamo ad analizzare il passo di Marco 1, versetto 34, vi è scritto nelle note critiche che... andiamo ovviamente a leggere il passo, tanto per essere ancora più chiari in questo caso. In Marco 1, versetto 34, vi è scritto, Egli guarì molti malati di varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva che i demoni parlassero, perché lo conoscevano bene. Quindi qua sembra ricollegarsi effettivamente a Marco 3, in cui Gesù impediva ai demoni di parlare perché appunto lo conoscevano molto bene. Ma l'interlineare della San Paolo afferma, quindi suggerisce le note critiche, che questo passo di Marco 1, versetto 34 ha anche un'aggiunta. Un'aggiunta che è presente nei codici più antichi, come per esempio il Codex Vaticanus, che è fra i codici più antichi insieme al Sinaiticus, in cui tale aggiunta afferma, sapevano, cioè i demoni sapevano, che egli era il Cristo. Quindi non il figlio di Dio, ma il Cristo. Anche in questo caso abbiamo una confessione di tipo cristologico, quindi non di figliolanza divina, ma cristologico. Una confessione cristologica che è stata eliminata nelle copie successive, ma invece è stato mantenuto il figlio di Dio. Quasi come se i copisti, un po' come in Marco 1, versetto 1, i copisti avessero dovuto aggiungere il figlio di Dio e mantenere il figlio di Dio ed eliminare forse i riferimenti cristologici. Quindi per dare invece più parvenza, più forza alla tese di Gesù figlio di Dio. Non presente forza nel Marco originale. abbiamo qui ancora un altro passo, e cioè Marco capitolo 5, versetto 7. Marco 5, 7 recita così, anche in questo caso abbiamo un dialogo fra Gesù e un demone. Che c'è fra me e te, Gesù figlio del Dio altissimo? Quindi anche in questo caso sembra esserci una esplicitazione della figliolanza divina. Addirittura Gesù è definito non figlio di Dio, ma figlio del Dio altissimo, quindi figlio di Dillel Elyon, figlio del Dio altissimo, del più alto grado divino. Sempre in questo caso l'Italiana della San Paolo, ma anche in questo caso la Novo Un Testamentum Greci, Mestre Alland, fanno un riferimento antico testamentario, cioè dicono, ci suggeriscono. Marco in questo caso sta citando il primo libro dei Re, in questo caso il primo libro dei Re, capitolo 17, versetto 18, in cui Elia raggiunge le ragioni di Sidone, dove vi è una vedova, la vedova quindi la porta, porta Elia in casa, quindi lo ospita. Questa vedova ha anche un figlio che muore, Elia poi compie un miracolo di resurrezione, ma prima che potesse compiere questo miracolo, la donna chiede a Elia, ma sempre, ecco, ripetiamo anche una volta, primo libro dei Re, capitolo 17, versetto 18. Cosa vi è tra me e te o uomo di Dio? Quindi qua Marco sta copiando perfettamente questo passo del primo libro dei Re, ma invece di definire Gesù uomo di Dio, lo definisce figlio del Dio altissimo. Anche qui sorge spontanea una domanda, perché se Marco sta copiando la primo libro dei Re, e oltretutto con un'associazione Gesù e Elia, che non è presente soltanto in questo passo di Marco, non è presente soltanto nel vaggio di Marco, ma in altri passi. Per esempio, ecco, Gesù è associato molte volte a Elia, o anche Giovanni il Battista è associato anche a Elia, quindi questa figura che non è mai effettivamente morta, che è tornata alla divinità da vivo, eccetera, 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 poi ecco, sono cose che già conosciamo. Ecco perché in questo caso Marco, citando il libro dei Re, cita il figlio del Dio altissimo. Sembra quasi, ecco, un aggiunto, in questo caso a posteriori. Ovviamente se questa spiegazione può non soddisfare, abbiamo anche un altro riferimento, sempre per quanto riguarda Marco 5-7, che viene, deriva proprio sempre da un testo delle edizioni paoline, in questo libricino, perdonate se è rovinato, ma ha davvero tantissimi anni, quasi 40 anni questo libro, che è appunto il Vangelo insieme agli Atti degli Apostoli. Questa edizione è presente ancora oggi, viene ancora distampata, quindi molti di voi sicuramente la riconosceranno. E nella nota proprio di Marco 5-7, dove appunto questo demone chiede ma cosa c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio altissimo? Ecco, questo figlio di Dio, nella nota di Marco 5-7, viene così spiegato. Figlio di Dio, come già santo di Dio di Marco 1-24, quindi quel santo di Dio, quel agios che abbiamo visto prima. Ebbene, questo figlio di Dio, così come santo di Dio, non ha qui tanto il significato di affermazione della natura divina. Quindi, lo sottolineo ancora, non ha significato di affermazione della natura divina, ma quanto alle particolari relazioni di Gesù con Dio, sia di amore che di missione. E io voglio soffermarmi proprio sulla parola missione, perché il santo di Dio, il consacrato, il benedetto, sembra proprio una persona che ha consacrato la propria vita a Dio e quindi che sta compiendo, citando anche il famoso film classico dei Blues Brothers, una missione, sta compiendo una missione per conto di Dio. Quindi, ancora in questo caso, abbiamo un'accezione messianica. Discostiamo la figura regale, rimaniamo sulla figura messianica, il Messia che sta compiendo una missione per conto di Dio. Quindi, il santo di Dio, il figlio di Dio, sembra essere quasi un'accezione, una carica, una funzione, quindi non legata a una figliolanza divina attraverso un atto generativo, ma appunto una funzione specifica legata a una missione. Ma ancora, abbiamo altri due passi da analizzare e poi concludiamo con l'angelo di Marco. La trasfigurazione in Marco 9, versetto 7. La nube che giunge, quindi copre con la sua ombra i presenti sul monte, e dalla nube giunge una voce che dice, riferendosi ovviamente a Gesù, questo è il mio figlio di letto, ascoltatelo. Quindi qua abbiamo addirittura una confessione palese da parte della divinità, la divinità che riconosce in quel personaggio, quindi Gesù, che in quel momento si stava addirittura trasformando, stava compiendo una trasformazione, una trasformazione però forse di tipo artificiale, non naturale, come spieghiamo a Comarobiglino nel libro di Esseni dei. Ebbene, questo figlio che viene riconosciuto dal padre. Ma anche in questo caso ci vengono in aiuto i testi critici del Nuovo Testamento già citati, e soprattutto è che in questo caso il Salmo 2, cioè il Salmo 2 a cui, secondo ovviamente i testi critici del Nuovo Testamento, il Salmo 2 a cui l'Evangelista fa riferimento proprio nell'episodio della trasfigurazione. Il Salmo 2, che è intitolato, non a caso, il dominio universale del Messia, quindi si sta parlando del Messia, non del figlio di Dio. Questo dominio universale del Messia recita in questo modo. Proclamerò il decreto che il Signore ha pronunciato. Mio figlio sei tu, io in questo giorno ti ho generato. Solo che tu me lo chieda, porrò le genti quale tua eredità. Tua porzione saranno i confini della terra. Li spezzerai con verga di ferro, come vaso di argilla li frantumerai. Ed ora intendete, ore, l'ammonimento accogliete, governatoi della terra. Servite al Signore in timore e in tremore baciate i suoi piedi. Nello stesso passo il Signore parla, proprio nello stesso Salmo, parla il Signore al suo consacrato e lo definisce appunto suo figlio. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Ma il consacrato, così come è scritto nelle note proprio di questa Bibbia, ecco, una vecchia Bibbia delle edizioni paoline, sono molto fedele alle edizioni paoline, è descritto quindi la natura stessa di questo consacrato che viene definito addirittura figlio da Yahweh, dal Signore. Il consacrato è letteralmente, dice la nota, letteralmente il Messia, cioè l'unto, titolo del re davidico dovuto all'unzione regale. Quindi qua abbiamo un'esplicitazione chiarissima, a cui Marco fa riferimento in quel caso, in cui il figlio ha una funzione regale delegata alla figura del Messia. Qui non al figlio di Dio, così come lo conosciamo noi oggi, così come lo definiremo secondo categorie ellenistiche. Quindi frutto dell'unione fra una mortale o un mortale e una divinità. Ok? Quindi in questo caso è legato proprio al Messia. Il Messia è chiamato figlio di Dio, quindi aveva una funzione specifica. Il consacrato, il benedetto, quindi colui che sta spendendo la sua vita per il servizio, per il servizio a Dio. Ultimo testo, in questo caso ultima porzione di testo, ultimo passo, è Marco 14, versetti 61-62. Il processo ebraico a Gesù, in cui il Sinedrio chiede a Gesù, se tu il Cristo, il figlio del Benedetto, Gesù risponde affermativamente e dice, e vedrete, citando ovviamente il Salmo 110 e il Libro di Daniele, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire con le nubi del cielo. Quindi risponde sì, io sono il Cristo e cita poi il Salmo 110 e il Libro di Daniele. Qua è interessante intanto fare una considerazione. alla domanda associano il Cristo al figlio del Benedetto, quindi al figlio di Dio, così come avveniva nel Salmo 2. Ma vediamo invece cosa dice il Salmo 110, che sempre le edizioni critiche ci dicono che il Salmo 110 e il Libro di Daniele sono i testi a cui Marco si è riferito in questo episodio. Il Salmo 110, non a caso, intitola Il Messia Re e Sagerdote. Quindi ancora una volta, si riferisce alla figura messianica e non alla figura del figlio di Dio, come lo intendiamo noi, quindi il figlio di Dio da un punto di vista generativo. Il Salmo 110 recita, Oraco del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponchi i tuoi nemici e sgabbello dei tuoi piedi. Lo scettro della tua potenza stende il Signore da Sion, perché tu domini in mezzo ai tuoi nemici. Il tuo popolo sta pronto nel giorno del tuo valore, in sacri splendori dal grembo dell'aurora per te e il fiore della tua gioventù. Tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Il Signore starà alla tua destra, abbatterà i re nel giorno della sua ira, eseguirà il giudizio fra le genti, ammucchierà i cadaveri, abbatterà le teste su vasta regione. Quindi qua abbiamo un chiarissimo riferimento di quel Messia regale che dovrà dominare sulle genti con violenza. Quindi armare guerra contro le genti per conquistare le terre straniere e dominare su tutte le genti, perché era questa la finalità del Messia. L'inviato da Dio, il benedetto da Dio, il santo di Dio, il figlio di Dio. Ma anche in questo caso il libro del profeta Daniele, compie un eco proprio a questi salmi, riferendosi veramente alla figura del figlio dell'uomo, figlio dell'uomo che sembra essere quasi sinonimo all'interno del Vangelo di quel Messia che deve arrivare. In questo caso il testo è Daniele capitolo 7, versetti 13 e 14. Io guardavo nelle visioni notturne, ecco sulle nubi del cielo venire uno simile ad un figlio dell'uomo. Arrivò fino all'antico di giorni e fu fatto avvicinare davanti a lui. A lui fu concesso potere, forse dominio, e tutti i popoli, le nazioni e le lingue lo servirono. Il suo potere è un potere eterno che non finirà e il suo dominio è un dominio eterno che non sarà distrutto. Quindi anche in questo caso, come nel Salmo 110, come nel Salmo 2, si parla di dominio e leggenti. E in questo caso, contestualizzando, ecco perché vi è il sinedro che si scandalizza di fronte alle parole di Gesù, perché Gesù sta esplicitando la sua funzione regale di Messia e sta dichiaratamente muovendo guerra a Roma, cioè muovendo guerra al popolo che sta occupando indegnamente le terre di Israele. E ovviamente questo i sinedriti non lo potevano accettare perché loro avallavano lo status quo, loro avallavano il collaborazionismo con il popolo romano. Però su questo magari potremmo fare altre considerazioni quando poi parleremo in maniera approfondita di questo aspetto nelle future puntate. Però questo per far capire come nel Vangelo di Marco ogni qualvolta si parla del Figlio di Dio, si sta parlando del Figlio di Dio non secondo una identificazione divina, ma Marco si riferisce a quei testi in cui il Figlio di Dio è identificato proprio come Messia. Poi bisogna esattamente capire le finalità stesse di Marco, se Marco quindi ha voluto utilizzare quei passi o non poteva far altro che utilizzarli, ma in questo caso decontestualizzarli e quindi reinterpretarli secondo nuova chiave cristiana. Perché non dimentichiamoci che Marco sta scrivendo per un pubblico romano. Marco sta scrivendo quindi al ridosso della fine delle guerre giudaiche, quindi che avevano in qualche modo portato Roma a combattere contro gli ebrei a causa proprio dei messianisti, a causa proprio dei messia regali. Quindi in questo caso è necessario da parte di Marco decontestualizzare magari questa figura di Figlio di Dio e renderla magari più vicina al Figlio di Dio ellenista, quindi a quell'idea ellenista. Però qui è importante appunto i testi di riferimento a cui Marco si rifà. Sono quei testi che identificano il Figlio di Dio non come Figlio di Dio da un punto di vista generativo, ma come da un punto di vista di messia regale. Quindi il Figlio di Dio non è altro che un essere eccezionale voluto da Dio che doveva quindi incarnare quella figura messianica per liberare il popolo di Israele. Tutto qui. Quindi potremmo dire che in Marco abbiamo un messia regale, un Gesù messia regale, però molto decontestualizzato, molto fumoso. È interessante anche notare come molte volte si possa notare anche un Gesù forse vicino a una presunta figura storica, in quanto Marco non si preoccupa né delle origini di Gesù e quelle poche volte che si preoccupa dell'origine di Gesù lo identifica come figlio di Egittimo, cioè quindi come figlio di Maria, o addirittura Marco non si preoccupa affatto della resurrezione, cioè l'annuncio della resurrezione, l'originale di Marco non avviene con le donne che scappano via. Quindi sembra che Marco non abbia delle finalità prettamente catechetiche, prettamente dottrinali e teologiche, ma voglio soltanto raccontare una storia. Quindi la storia di un uomo eccezionale, potremmo dire così. Poi non dimentichiamoci sempre, concludo con Marco, non dimentichiamoci sempre che vi è una netta differenza tra il possibile Gesù storico e il palesissimo Gesù redazionale. Quindi il Gesù che compie i miracoli, che cammina sulle acque, che seda la tempesta sul lago, che ricorda molto in questo caso elementi, elementi e analogie con le storie di Omero. Quindi anche in questo caso abbiamo anche un Gesù mitico, un Gesù omerico, però poi lo vedremo ovviamente le donne successive. Però questo era quello che si poteva dire, e scusate se mi sono dilungato molto, si poteva dire appunto sul Vangelo di Marco. Con gli altri Vangeli andremo invece molto più spediti. Per quanto riguarda il Vangelo di Matteo, che è sempre ovviamente secondo quella che è attualmente la tradizione anche accademica, è quello che è stato scritto successivamente a Marco. Matteo inserisce una natività questa volta. Cioè, mentre Marco ignora, ignora forse volutamente l'origine di Gesù, forse troppo scandalose, per Matteo invece la natività è presente. Magari anche per coprire quella natura scandalosa, quindi per dare un'origine nuova a Gesù. E la dà in maniera differente rispetto a Luca. Per Luca tra poco vedremo. Matteo inserisce nella storia della natività un sovrano, in questo caso il re Rodel Grande, che ancora prima che Gesù nasca ha timore di lui, cioè ha timore che gli venga sottratti il regno da questo nuovo re d'Israele, in conformità anche alle informazioni che ci derivano da Giuseppe Flavio. Cioè, alla fine dei suoi giorni il re Rodel Grande era molto preoccupato perché pensava che il regno li potesse venire sottratto da qualcuno. Ovviamente tutto ciò che è poi descritto nel Vangelo di Matteo, come la strage degli innocenti, eccetera, è tutto a frutto di natura redazionale, proprio per far apparire Rodel come il cattivo e Gesù come l'innocente, che poi dovrà poi salvare il popolo di Israele, eccetera, eccetera. Cioè all'interno di una cornice, potremmo dire mitrashica, in cui Gesù va in Egitto e torna all'Egitto, quindi potremmo dire che fugge dall'Egitto, così come Mosè, per salvare il popolo di Israele, quindi per compiere la sua missione. Quindi siamo quasi, ripeto ancora una volta, in una cornice quasi mitrashica, in cui Gesù sembra ricalcare all'interno del Vangelo di Matteo un novello Mosè, un nuovo Mosè, o quantomeno un nuovo liberatore, in quanto Yeshua, quindi Yehoshua, vuol dire proprio Yahweh salva, quindi il nome di Gesù significa proprio questo. Quindi il nuovo salvatore della casa di Israele. È alla casa di Israele che Gesù si rivolge esclusivamente. Ed è scritto proprio nel Vangelo di Matteo, non andate fra i pagani perché noi dobbiamo soltanto rivolgerci alle pecore perdute e alla casa di Israele, vi è scritto nel Vangelo di Matteo. E sempre nello stesso Vangelo abbiamo il famoso discorso della montagna, quindi quel grande discorso esegetico sulla legge mosaica, in cui Gesù, attenzione, non abolisce la legge. Egli stesso lo afferma negli stessi passi. Non sono venuto ad abolire neanche uno iota della legge, ma a portare a compimento la legge. Gesù in quel momento, quindi nel discorso della montagna, sta soltanto facendo un discorso di tipo rabbinico esegetico. Potremmo anche dire quasi un discorso, una lotta, Gesù farisei, che sembrava quasi di calcare la stessa lotta che anni prima veniva fra le scuole di Hillel e Shammai. Hillel, un autore, un maestro più liberale, progressista, contro invece il rigorista e conservatore Shammai. In questo caso i farisei nei Vangeli vengono appunto dipinti come rigoristi e conservatori, nonostante la loro tradizione orale, nonostante i farisei stessi erano coloro che interpretavano più volte la legge, quegli aspetti della legge che erano ancora nebulosi e che al tempo erano rimasti nebulosi, contro invece un Gesù che nel discorso della montagna dice vi è stato detto che, ma io oggi vi dico che. Quindi attenzione, non sta annullando la legge, ma appunto la sta, secondo ovviamente il suo modo, la sta perfezionando, la sta migliorando. Quindi la sta portando a compimento. Quindi in questo caso nel Vangelo di Matteo abbiamo un Gesù, in questo caso rabbi, un messianismo forse più sfumato ecco in questo caso, ma comunque un rabbi, un maestro, un maestro dei seggesi, un maestro di legge e che si vuole gettare a capofitto in una, potremmo dire anche in una battaglia politica, ma una battaglia politica molto più legata alle seggesi della legge, alla conoscenza della legge. Cioè attraverso la conoscenza della legge, quindi attraverso l'esecuzione pedissegua della legge, tu potrai salvarti. Quindi era questo l'insegnamento del Gesù di Matteo, sostanzialmente, quindi il macro Gesù. Poi ne abbiamo anche molti altri nel Vangelo di Matteo, che però vedremo alle poi successive. Nel Vangelo di Luca invece la cosa cambia ancora, ma potremmo dire che cambia radicalmente. Il famoso Gesù ebraico sembra sempre di più scomparire. Nel Vangelo di Luca sparisce quasi completamente, perché nel Vangelo di Luca il macro Gesù si risolve soprattutto nell'episodio dell'annuncezione, della crocivissione e poi dell'assunzione o dell'ascensione. Il Gesù presentato è un Gesù ellenista, cioè un Gesù che ricalca non solo l'errore ellenista, tra poco vedremo, ma anche quello del Gesù divino. Quindi abbiamo due macro Gesù, che sono anche coincidenti. Nell'episodio dell'annuncezione, lo abbiamo anche visto nella puntata precedente, quello sulle analogie, per quanto riguarda i miti greci, nell'annuncezione abbiamo questo S divino, questo Ghevriele, che svolge una funzione di Ghever di un El, quindi con lui che esercita il potere per conto di un El, cioè di un Dio, in questo caso di un Theos, incontra una giovane ragazza vergine e la mette incinta. Quindi nel video precedente abbiamo detto in maniera molto più approfondito, ovviamente, quindi vi rimando al video sulle analogie con i miti greci. Abbiamo appunto questa spiegazione in cui forse nell'annuncezione abbiamo un racconto di un vero e proprio rapporto sessuale, che a noi ovviamente può portare scandalo, ma che al tempo, al tempo quindi in cui il Vangelo di Luca venne redatto, quindi in pieno territorio elenista, nel pieno della cultura elenista, dove certi topos narrativi erano consolidati, quindi se si voleva presentare Gesù come un nuovo semidio, come una nuova divinità, lo si doveva presentare secondo quei canoni narrativi specifici, ebbene al tempo forse non era uno scandalo, quasi certamente non era uno scandalo, ma anzi era necessario presentarli in quel modo. E abbiamo appunto delle analogie in questo caso, analogie che, come ho detto anche nel video precedente, ricordano molto, per esempio, Ercole. Ercole nasce dall'unione fra Zeus e Alcmena, così come Gesù nasce dall'unione fra Zeus, una giovane, da Ghevriell, un essere divino, una giovane ragazza vergine, Alcmena che viene accusata di essere una donna adultera, così come Maria del II secolo, ma anche nel Vangelo di Marco indirettamente viene accusata di essere una donna adultera. Ercole che deve superare tantissime fatiche per poi morire in maniera, potremmo dire, gloriosa, eroica, così come Gesù, che morirà in qualche modo in maniera gloriosa, così ci lo dipingono ovviamente i Vangeli, non una morte orreda, orribile, ma una morte che comunque riceverà una sua gloria, quindi una sua rivalutazione. Ercole che risorge dai morti con il suo corpo che si trasforma e ascende poi al cielo attraverso, quindi una nube inviata da Zeus, stessa cosa accade per Gesù. Dopo morto, resuscita e una nube lo preleva da terra e lo porta quindi in cielo. Quindi anche in questo caso sembra ricalcare, come abbiamo già detto, quel percorso degli eroi ellenici, dei grandi semi dèi, che poi raggiungono le regioni iperuraniche, che raggiungono le regioni iperuraniche, cosa che è anche descritta per esempio nelle apologie di Giustino, come abbiamo detto nel video precedente. Giustino non nasconde affatto queste analogie con i grandi eroi dell'antichità, con i grandi semi dèi, con i grandi figli di Zeus. Addirittura, dice Giustino, nella particolarità della sofferenza, particolarità della sofferenza che secondo il Catechismo e la Chiesa Cattolica dovrebbe essere l'elemento fondamentale del piano salvifico di Dio, ebbene Giustino dice che nella particolarità della sofferenza nemmeno Gesù è diverso dagli altri figli di Zeus. Quindi questa associazione, questa analogia è del tutto presente ed è presente soprattutto, ripeto ancora una volta, nel Vangelo di Luca, dove appunto Gesù rincarna proprio l'eroe ellenico, tante le analogie, tante le mimisi letterarie, ma per esempio con i racconti omerici in questo caso. Per ultimo il Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni, invece, potremmo dire che abbiamo tre macro Gesù, in questo caso. Un primo macro Gesù lo abbiamo all'inizio, quindi nel famoso prologo del Vangelo di Giovanni, quel famoso innuallogos, quindi in principio era il verbo, il verbo era presso Dio e Dio era il verbo, e il verbo era Dio. Però in questo caso, ecco, la traduzione italiana tende a tradire quello che invece nell'origine greco sembra essere effettivamente una gerarchitazione divina, perché Gesù si è identificato come Logos. Quindi Giovanni dà una spiegazione alle origini di Gesù, una spiegazione del tutto divina. Quindi per la prima volta abbiamo un testo evangelico che esplicita in maniera chiarissima la natura divina di Gesù, a differenza di Marco, dove invece abbiamo visto che quel figlio di Dio aveva un'altra valenza, qui invece Giovanni dice che Gesù era il Logos e che il Logos era Dio, cioè che Gesù era un Theos, a differenza invece del Logos che era presso Dio, cioè che il Logos era presso il Tonteon, cioè nel senso era presso il Dio inconoscibile, il Dio supremo. Quindi qui in questo caso Giovanni fa una differenza sostanziale fra il Logos e Gesù che è inferiore al Dio, quindi il Dio superiore. Però ecco qui abbiamo un primo macro Gesù, quindi un Gesù Logos, Logos stoico, poi ripreso da figlio di Alessandro e poi rivisto ovviamente da Giovanni. Quindi un Gesù, in questo caso, per ancora una volta Logos, presente fin dal principio. Quel Gesù Logos che poi gli apologeti cristiani diranno era presente anche nelle famose teofanie nell'Antico Testamento, dove non era Dio, ma era proprio il Cristo che si stava mostrando e che gli ebrei non hanno riconosciuto. Questo ovviamente in questo processo di reinterpretazione che vi invito poi a vedere nei miei video proprio sull'apologetica cristiana quando ho parlato alle vari padri apologeti, quindi Giustino, Taziana, eccetera, eccetera. Il secondo macro Gesù invece è il Gesù filosofo. Anche qui vi rimando al video che trovate sul mio canale YouTube Francesco Esposito, il Gesù filosofo, quindi quale filosofia nei Vangeli, dove spiego che non vi è, assolutamente non esiste una filosofia cinica all'interno dei sinottici, ma è presente invece nel Vangelo dei Giovanni una filosofia di stampo socratico. Ovviamente ora riassumo tantissimo, quindi vi rimando al video il Gesù filosofo, per avere quindi tutte le spiegazioni del caso, qui abbiamo nel Vangelo dei Giovanni tutti gli elementi che incarnano non solo la filosofia socratica ma anche parte della vita di Socrate. Quindi abbiamo il dialogo, che è fondamentale nella filosofia socratica, tra poco lo vedremo, la maieutica, quindi un principio conoscitivo, quindi per conoscere quella che è la verità, che è il terzo aspetto della filosofia socratica. C'è anche l'ironia, però adesso vediamo questi tre soprattutto. Cioè Gesù, così come Socrate, dialoga con i suoi interlocutori. Cioè non si limita a parlare attraverso parabole, ma dialoga. Ci sono veri e propri dialoghi filosofici che sono esclusivi del Vangelo dei Giovanni. Il dialogo con Nicodemo, il dialogo con la donna del pozzo e il dialogo con Pilato, che è esclusivo del Vangelo dei Giovanni, in cui il soggetto è sempre la verità. Una verità che viene riconosciuta per Socrate e all'interno di noi, la verità filosofica che attraversa il processo maieutico, cioè quindi il processo dell'allevatrice, dell'arte dell'allevatrice, quindi il far nascere dal soggetto la verità filosofica. Gesù, attraversi il dialogo e questo processo maieutico, fa nascere nei suoi interlocutori il disvelamento, il riconoscimento della verità filosofica, ma della verità in generale, potremmo dire in questo caso perché non è esplicitata in Giovanni, della verità che è incarnata in Gesù. Cioè Gesù fa nascere nei suoi interlocutori la consapevolezza di star parlando, di riconoscere la verità che è incarnata da Gesù. Addirittura Pilato chiede ma che cos'è questa verità? In quel bellissimo discorso, molto breve, molto conciso, ma un discorso prettamente filosofico, dove abbiamo un Pilato ovviamente totalmente decontestualizzato e lontano da ogni canone storico. Però abbiamo proprio questi elementi socratici all'interno del Vangio di Giovanni, nelle sezioni esclusive, ed è questa la particolarità, le sezioni esclusive del Vangio di Giovanni, che non sono presenti nei Sinottici. E ancora una volta, in questo caso, un aspetto è la vita di Socrate che è descritta nel Fedone di Platone, quindi gli ultimi attimi di vita di Socrate, che è imprigionato nelle prigioni di Atene, aspetta la cicuta, quindi aspetta questa morte dolce. E l'aspetta quindi consapevole di star per morire e che accetta di morire. Gesù, a differenza dei Sinottici, dove invece nel Gezzemani addirittura arriva a sudare sangue perché non vuole accettare questo fatto, questo amaro calice, nel Vangio di Giovanni invece accetta volontariamente di morire, anzi aspetta questa morte perché sa di dover morire, e dialoga, così come Socrate dialoga con gli amici in carcere, lui dialoga con il suo carceriere, in attesa di morire, di una morte che accetta. Quindi abbiamo molti paralleli, che qui ho molto riassunto nel video Gesù Filosofo invece ho ripreso in maniera molto più approfondita, abbiamo quindi questi paralleli con la filosofia socratica, quindi non filosofia cinica nei Sinottici, ma filosofia socratica invece presente nel Vangio di Giovanni, quindi il Gesù Filosofo Socratico. E per ultimo abbiamo, quindi il terzo macro Gesù nel Vangio di Giovanni, il Gesù politico rivoluzionario. In questo caso sì, un Messia politico esplicitato attraverso dichiarazioni e attraverso quindi anche elementi esplicitati dal Vangio di Giovanni. Una dichiarazione che arriva dai Farisei, ma se Gesù continua a compiere questi segni i Romani verranno da noi e ci distruggeranno, distruggeranno la nostra nazione. Ma perché i Romani dovrebbero distruggere la nazione ebraica di fronte a degli atti miracolistici? I Romani non avevano alcun interesse di contrastare le religioni altrui, ma avevano interesse invece se quelle azioni erano azioni politiche atte a destabilizzare l'ordine pubblico. Ma ancora l'arresto di Gesù, l'arresto nel Gezzemani, i Sinottici sono molto vaghi, anche se in alcuni casi sono invece molto più espliciti. Lo vedremo nelle punte successive. Ma in questo caso il Vangio di Giovanni ci parla di una speiran, cioè nel senso di una corte con un tribuno, quindi circa 400 soldati romani che raggiungono il Monte degli Olivi. E lì avviene una vera e propria rappresaglia di soppressione e finalizzata all'arresto di Gesù, dove addirittura Pietro prende la sua spada e colpisce e ferisce e mozza l'orecchio del servo del sommo sacerdote. Sembra quasi questo ricalcare, e anche questo poi lo vedremo nelle punte successive, sembra ricalcare quello che ci descrive Giuseppe Flavio nelle sue opere dell'Egiziano che sul Monte degli Olivi aveva riunito molti dei suoi e quasi a seguito di un tradimento proprio di qualcuno che seguiva magari l'Egiziano, i Romani vengono a sapere di questa riunione presente nel Monte degli Olivi, di questa riunione che era soltanto un preludio di una guerriglia da parte dell'Egiziano che era pronto a scagliarsi contro Gerusalemme da battere e quindi andare contro il dominatore straniero, i Romani arrivano in via preventiva e combattono proprio sul Monte degli Olivi, proprio portandosi una speiron, quindi portandosi una coorte con un tribuno. Quindi anche questo parallelismo è molto interessante, che ripeto analizzeremo poi nei video successivi. Quindi questi sono ovviamente i soldoni, ovviamente i macro Gesù, ce ne sono molti altri che poi analizzeremo, molto più piccoli, quindi questi piccoli satelliti che gravitano attorno a questi macro Gesù. Ma questi macro Gesù sono, nel Vangelo di Marco abbiamo visto, questo Gesù figlio di Dio che sembra ricalcare questo messenismo ma che Marco sembra in qualche modo censurare, quindi Marco sembra quasi voler edulcorare molte informazioni che conosce su Gesù, forse su Gesù storico ma che tenta di nascondere, proprio perché sta scrivendo per un pubblico romano a seguito delle guerre giudaiche. Poi abbiamo nel Vangelo di Matteo questo Gesù rabbi, un rabbi quindi un maestro di legge che non ha interesse a una lotta armata ma ha un interesse comunque a salvare il popolo di Israel attraverso la conoscenza e la legge. Poi in Luca abbiamo questo Gesù invece eroe ellenico, allo stesso tempo semidio, quindi divinità che poi ascende come i grandi eroi ellenici nelle regioni peruraniche. Poi nel Vangelo di Giovanni abbiamo il Gesù Logos da una parte, il Gesù filosofo socratico dall'altra e il Gesù invece politico rivoluzionario in un'altra parte ancora. Quindi questi erano i Mancro Gesù che volevo ovviamente presentarvi con le fonti a nostra disposizione in questi circa 50 minuti che siamo stati insieme. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, ovviamente i riferimenti social sono sempre gli stessi, Esposito Francesco Scrittore per quanto riguarda la mia pagina Facebook, Francesco Esposito per quanto riguarda il mio canale YouTube, vi ricordo anche i miei libri, Il Cristianesimo Dimensioni San Paolo, Il Cristi Legittimo, The Semidei e per ultimo Prima del Cristianesimo tutti editi da uno editori. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito, spero di non avervi affatto annoiato e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao a tutti!